Continua il grande successo in tour di un fenomeno musicale e culturale straordinario. Mimmo Cavallaro, artista e musicologo di Cauloni, ha formato i Taran Project con i quali continua ad esibirsi. In queste immagini stiamo vedendo uno degli ultimi concerti che si è tenuto a Bovalino Superiore nel fine settimana, conoscendo un successo via via sempre più travolgente, fino a diventare un autentico evento di massa. Musicisti di talento e un pugno di canzoni fenomenali tratte in buona misura dal repertorio della musica tradizionale, ricomposte e cesellate fino a trasformarle in brani smaglianti che sprigionano energie ed emozioni e che tutti mandano subito a memoria. Un pubblico di tutte le età che riempie le piazze della Locride cantando e ballando all'unisono. E' appena il caso di notare il risvolto sociale di questa occasione di incontro intergenerazionale in una terra proverbialmente difficile, ma al di là di questo aspetto c'è da sottolineare l'assoluto valore artistico della proposta di Mimmo Cavallaro, una inesauribile fonte di commozione e divertimento collettivo che merita di essere conosciuta e goduta in tutta Italia e nel mondo. Grazie.